Ciao a tutti, nel video di oggi, Chiara ci mostra il suo nuovo Nespresso Caffè & Vich di Cannes. Nel frattempo Leo dà il buongiorno alla piccola Vittoria, salutandola con un bacino. Vi lascio al video, buona visione. Cioè, allora, stamattina tutti i giornali indignatissimi per la mia diretta di ieri, perché è stata una cosa scandalosa, abbiamo abbassato il livello del dibattito politico italiano in una maniera vertiginosa, perché il dibattito politico in Italia è una cosa altissima, la devono fare solo persone qualificate e io ovviamente sono un ignorante di merda e quindi oggi, siccome è una persona qualificata, che è pienamente dentro il dibattito politico in Italia, si domanda se io pisci sulla testa di mia moglie, quindi interroghiamoci su questa cosa, ragazzi, seriamente. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao ragazzi, è già bello il baking off. Ciao ragazzi, è già venuto dall'Espresso Furchiara Ferragni evento. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.